Buonasera, bentrovati al concetto appuntamento con l'informazione di TgN che apriamo dando conto del primo confronto, seppur indiretto, tra i tre principali candidati alla presidenza di Regione Lombardia, quindi parliamo dell'attuale presidente Atilio Fontana, di Letizia Moratti di Pierfrancesco Maiorino, il ring di questo primo confronto è stato il Palazzo delle Stelline direzione nord padrone di casa e abbiamo voluto isolare e dare voce a tutti e tre ovviamente partendo o meglio procedendo nell'ordine in cui si sono presentati sul palco di Palazzo delle Stelline quindi prima Pierfrancesco Maiorino, candidato del centro-sinistra del Movimento 5 Stelle che ha voluto affrontare tra i vari temi e tra le varie schermaglie politiche anche quella relativa ad Aler e alle case popolari, sentiamo il suo pensiero. Io penso che noi siamo di fronte intanto a uno scandalo a cielo aperto, Regione Lombardia è un caso scuola a livello internazionale di mala gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica, 15.000 case vuote di proprietà regionale con migliaia di persone senza casa fatemi dire che sono uno scandalo, quindi la prima cosa è cambiare radicalmente in Aler, intanto cambiando le persone, questo guardate è un tema, lo dico per le prossime 18 domande, cioè è evidente che se dobbiamo fare dei cambiamenti, i cambiamenti non li produci lasciando le persone che hanno realizzato le cose che vuoi cambiare, questo è ovvio, ma poi mettendoci fondi europei significativi, importanti. Letizia Moratti, ex assessore al welfare e quindi a tutta la partita della sanità lombarda ovviamente è stata pungolata e sollecitata su uno dei temi chiave della sua riforma, quello delle case di comunità e ha risposto così a chi le chiedeva il motivo per cui ancora le case di comunità sembrano non prendere piede. Io ho fatto approvare una legge con tempi certi, risorse certe, quindi un miliardo e due dal PNRR e 800 milioni da Regione Lombardia, una legge che deve concludere il proprio percorso nel 2024. C'è un punto però, non so se il candidato centrosilistra l'ha toccato, c'è però un punto importantissimo, medici di medicina generale, hanno un contratto da liberi professionisti, dipendono dallo Stato, non dipendono dalle regioni, senza medici di medicina generale o con pochi medici di medicina generale è davvero difficile che le case di comunità svolgano quella funzione fondamentale che è la funzione della medicina territoriale. Il presidente Attilio Fontana è invece al presidente Attilio Fontana è stato sottoposto anche un jacuzzi che arrivava dal suo competitor del centrosinistra per Francesco Maiorino rispetto al trasporto pubblico locale e al fatto che, secondo Maiorino, la colpa del rincaro del biglietto ATM per il comune di Milano non è di Beppe Sala, bensì di Regione Lombardia e di Attilio Fontana. Io sul TPL dico una cosa che dovrebbe iniziare a leggere un attimino le carte il candidato Maiorino perché se le leggesse si renderebbe conto che la Regione Lombardia è l'unica regione in Italia che tutti gli anni destina più di 400 milioni di risorse proprie per integrare le risorse che arrivano da Roma. Se non ci fossero queste risorse di Regione Lombardia il TPL non potrebbe funzionare. Quindi cerchiamo di dire le cose come siamo. Noi siamo l'unica regione che versa cifre di questo genere. Ce n'è un'altra che versa pochi milioni ad integrazione. Tutte le altre non versano assolutamente niente di loro. Quindi su questa cosa mi inalbero un ciccinino. Questo Attilio Fontana non c'è soltanto direzione nord, non c'è soltanto Palazzo delle Stelline. Anche qui a Telenova proseguiamo nell'incontro con i candidati nel confronto a distanza. Diciamo così e questa sera sarà la volta di Letizia Moratti a Linea d'Ombra per te. Dalle 21 insieme alla direttrice Adriana Santacroce. Ovviamente candidata per Letizia Moratti per la sua lista civica ma anche per il terzo polo. Se volete porre delle domande a Letizia Moratti scrivete un whatsapp al 335-5754-525. Le sottoporrà in diretta Adriana Santacroce alla nostra ospite per avere le risposte. Cambiamo fronte, torniamo a Milano perché è arrivata una notizia, un fulmine a ciel sereno da un certo punto di vista. Cioè che dal 2024 la velocità massima dei veicoli a Milano potrebbe scendere a 30 km all'ora. È stato approvato infatti in Consiglio Comunale un ordine del giorno che va in questa direzione con tanto di Placet dell'assessore alla mobilità Arianna Censi che ha detto che terrà conto di quello che è la posizione del Consiglio Comunale. Secondo i firmatari la riduzione della velocità potrebbe, porterebbe a una diminuzione degli incidenti e delle conseguenze sulle persone. Dal 16 gennaio poi novità anche per Area B, il servizio di Alberto Carreras. In pratica una grande isola ambientale. Abbassare la velocità massima dei veicoli in città dagli attuali 50 a 30 km orari. È questo l'obiettivo di un ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale di Milano. La proposta invita il Sindaco e la Giunta a prendere in considerazione il progetto e attivarlo dal 1 gennaio del 2024. La misura, se venisse approvata definitivamente, comporterebbe l'estensione del limite di velocità a 30 km orari su tutto il territorio cittadino ad esclusione di alcune arterie di grande scorrimento dove resterà il limite di 50 km orari. Il testo è stato presentato da Marco Mazzei della lista civica Beppe Sala e sottoscritto da altri 26 consiglieri di maggioranza. I firmatari sostengono che il nuovo limite di velocità potrebbe aiutare a ridurre il numero e la gravità degli incidenti. Secondo gli esperti, l'impatto di un veicolo a 50 km orari contro un pedone o un ciclista è quasi sempre letale mentre, al contrario, a 30 km orari non sarebbe quasi mai letale con minori conseguenze per le vittime. Intanto, dopo tre mesi dal via ad area B, emergono i primi dati. Sono quasi 40.000 le deroghe per chi ha installato la cosiddetta scatola nera Movin che consente di effettuare un certo numero di chilometri all'anno anche a chi possiede veicoli inquinanti. La metà sono vetture diesel Euro 5. Dal 16 gennaio arriveranno altri 20 giorni di ingressi liberi per i possessori di diesel Euro 5 con basso reddito, unise sino a 20.000 euro all'anno. Sono poi 77.000 i permessi rilasciati a disabili che consentono la circolazione nella ZTL, circa 2.400 le auto storiche che possono circolare in città, oltre a 1.700 permessi rilasciati ai lavoratori turnisti. Tornando alla riduzione della velocità massima di questa grande isola o zona 30, chiamiamola così, che dovrebbe comprendere tutta la città di Milano secondo il volere del Consiglio Comunale e i propositi anche della giunta sala, ci sono state ovviamente tante reazioni, non solo politiche, ma soprattutto ovviamente la bocciatura arriva dal centro-destra, dalle opposizioni e anche da Regione Lombardia. Il limite di velocità a 30 km orari va bene in alcune strade cittadine, ha detto il governatore Lombardo Attilio Fontana, dove ci sono scuole ospedali o edifici sensibili, dove è giusto che ci sia particolare attenzione. In tutto il resto della città forse il limite di 50 km orari credo che può essere più utile. Per Carlo Monguzzi di Europa Verde il limite di velocità a 30 km orari in tutta Milano è uno degli obiettivi da sempre degli ambientalisti, però non sia solo simbolico. Siccome c'è scritto che saranno esentate le strade a grande scorrimento, non vorremmo che il 30 all'ora venisse applicato alle strade dove già ora si va più piano e sulle altre si continuasse ad andare a 50 all'ora. L'obiettivo primario per Monguzzi è comunque ridurre il numero di auto in entrata e in circolazione, senza il quale tutto diventa inutile. Un intervento demagogico, stupido e senza alcun vantaggio per la società, solo svantaggi, lo afferma Emilio Boccalini, vicepresidente di Taxi Blu. Milano non è una città turistica, è una città di business, ha sottolineato, che ha bisogno di muoversi in sicurezza e velocemente. Esultano le associazioni Cittadini per l'aria, Genitori Antismog e FIAB Ciclobbi. L'approvazione è un passo importante, e ora speriamo che il Sindaco e la Giunta accolgano l'invito e costruiscano il futuro sulla strada tracciata dal Consiglio Comunale. Agli automobilisti milanesi dà voce, come al solito, l'Automobile Club Italia del capoluogo Lombardo e il suo presidente, che è Geronimo Larussa. Lo sentiamo. Noi dell'Automobile Club siamo particolarmente preoccupati. Limitare un'intera città come Milano a 30 km all'ora è difficilmente rispettabile, è demagogico, sarebbe un passo indietro. Riteniamo che i 30 km di limite siano corretti davanti agli ospedali, davanti alle scuole, nelle vie di quartiere e nelle zone sensibili, ma non in un'intera città che ha fatto del dinamismo, della velocità, un suo punto di forza. Sicuramente un provvedimento del genere non gioverebbe alla città, non gioverebbe al commercio, non gioverebbe nessuno, nemmeno all'ambiente. Crediamo che non ci debbano essere scelte ideologiche, ma scelte di buon senso e a questo ci appelliamo. Passiamo alla pagina della cronaca che apriamo con un'indagine e delle persone fermate, una decina, con le accuse di corruzione aggravata dalla finalità mafiosa per aver agevolato la cosca andranghettista dei Dragone. L'ombra delle Endrine si allunga soprattutto sui fondi per la ricostruzione del dopoterremoto del 2012 nell'area del Mantovano. Corruzione aggravata dalle finalità mafiose. E' questa l'accusa che ha portato a una maxi-operazione dei carabinieri di Mantovano, che si è stesa oltre alla Lombardia, all'Emilia Romagna, al Veneto, alla Calabria, legata alla concessione di fondi per il terremoto del 2012. I militari, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Brescia, hanno fermato nove persone, indagate a vario titolo di concussione, abuso d'ufficio, corruzione, per atti contrari ai doveri d'ufficio, intestazione fittizia di società, con l'aggravante delle finalità mafiose per aver agevolato la cosca andranghettista Dragone. Nelle intercettazioni dei carabinieri emerge il ruolo di un pubblico ufficiale. Io, come ditta, non posso lavorare nel sisma, perché mio nonno era mafioso. Chi parla? Leir Rupp, responsabile unico del procedimento, una figura di grande rilievo nell'ambito degli appalti pubblici che svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione. La figura centrale dell'indagine sisma è rappresentata dal nipote di un boss andranghettista che avrebbe messo in piedi un sistema corruttivo per facilitare la concessione di contributi pubblici destinati alla ricostruzione post-sisma del 2012. L'architetto Giuseppe Todaro, spalleggiato dal padre Raffaele, durante i colloqui registrati dagli investigatori, ha rivendicato la propria posizione derivante dal proprio prestigio mafioso e sia la ricchezza nel frattempo accumulata dal suo nucleo familiare. Nell'inchiesta, un solo imprenditore ha esplicitato direttamente le accuse nei confronti dell'architetto legato alla Cosca Dragone che manovrava per affidare i lavori in cambio di un 3% dell'appalto. Gli altri invece traevano un vantaggio, tanto che sono accusati di corruzione. Sono andati a denunciarsi, ad autodenunciarsi come persone socialmente pericolose alla Questura di Milano diversi manifestanti che questa mattina davanti al Tribunale hanno partecipato al presidio di solidarietà per Simone Ficicchia, l'attivista di ultima generazione per cui oggi in udienza il PM ha chiesto un anno di sorveglianza. Siamo qui per autodenunciarci come cittadini e attivisti. Riteniamo sia giusto ricevere lo stesso trattamento di Simone considerato che lottiamo per le stesse cause per avere lo stesso futuro, ha detto una delle attiviste che si è autodenunciata. Un'azione spiegano da ultima generazione ispirata al jail-in dei movimenti non violenti di Martin Luther King e Gandhi. Se Simone è un criminale, allora siamo tutti criminali. se lo Stato decide di reprimere un ventenne preoccupato continuando indisturbato a condannarci a un pianeta invivibile allora dovrà fare lo stesso con chi lotta al suo fianco. Hanno spiegato tenendo in mano copia delle denunce e dei provvedimenti emessi dalla polizia durante azioni non violente. Non avendo commesso nessun reato però non potevano autodenunciarsi sono fatti sostanzialmente individuare dando i loro estremi e i loro documenti davanti al Tribunale dove hanno fatto un sit-in ed erano circa una quarantina. Una valanga ha investito e ucciso un uomo di 60 anni sulle montagne dell'alta Valle Spluga. La disgrazia è avvenuta nel primo pomeriggio in territorio comunale di Madesimo in provincia di Sondrio. Spiegano dal soccorso alpino che l'uomo un paio di giorni fa aveva chiesto soccorso perché era in difficoltà nella zona del passo Emet al confine con la Svizzera. Alla fine però era riuscito a rientrare in modo autonomo. L'uomo poi era risalito ma il mancato rientro ha fatto ripartire le ricerche. Quattro uomini dello soccorso alpino della Guardia di Finanza si sono portati in quota poi hanno contattato la centrale del 112 che ha inviato l'elisoccorso che ha poi proceduto purtroppo al recupero del corpo senza vita del 60enne. Un incendio invece è scoppiato questa mattina alle 8 e mezza nel complesso di una fonderia in Viale Belforte a Varese di fronte alla sede delle poste poco prima del castello. Le fiamme secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco hanno interessato un trasformatore della media tensione si è elevata una nuvola di fumo visibile a distanza i vigili del fuoco sono intervenuti con più squadre e più mezzi un'autopompa un'autobotte e un'autoscala non si sono registrati i feriti fortunatamente dichiarato inagibile il locale dei trasformatori dell'alta tensione nessuna ripercussione sul resto dell'attività della fonderia. In occasione dei dieci anni dalla morte di Mariangela Melato che ricorrono domani il Piccolo Teatro di Milano la ricorda con un omaggio che avrà luogo sui canali social per far rivivere le parole e l'immagine di Mariangela figura importante per il nostro teatro in senso lato e per il piccolo così il direttore Claudio Longhi alla conferenza che si è tenuta oggi per presentare Tre modi per non morire di Giuseppe Montesano con Toni Servillo in conclusione la lettura di alcune parole dell'attrice l'unica cosa certa su cui non ho mai avuto dubbi è che ho sempre voluto fare l'attrice per Servillo è un onore portare in scena lo spettacolo di Montesano in un teatro che giustamente il piccolo ha voluto dedicarle lo studio melato non c'è modo più affettuoso e sincero per renderle omaggio che dal palcoscenico ha detto Servillo cambiamo argomento una benedizione più che un augurio è questo che l'Arcivescovo Monsignor Mario Delpini ha voluto sottolineare in un suo messaggio per i nostri telespettatori in questi primi giorni del 2023 il servizio è di Anna Maria Braccini un augurio che è molto di più è una benedizione per un 2023 di speranza nel quale sentirsi benedetti da Dio ciascuno dovunque si viva dovunque si porti avanti la fatica quotidiana è quello che rivolge l'Arcivescovo ai nostri telespettatori e idealmente a tutta la diocesi in questo suo messaggio ecco che cosa voglio dire che l'anno che comincia è benedetto da Dio che l'anno che comincia è un giorno è un tempo è un percorso in cui Dio è alleato del nostro bene benedetto da Dio ecco quello che voglio dire di questo anno che comincia che ciascuno di noi ogni mattina alzandosi aprendo gli occhi possa dire ecco una giornata benedetta da Dio che ciascuno di noi in questa situazione in qualunque posto dove si trovi a vivere a lavorare a studiare anche a soffrire possa sempre dire la mia vita è benedetta da Dio ecco che cosa voglio dire all'inizio di quest'anno che la presenza di Gesù nella storia umana fa sì che Dio guardi con la sua misericordia e benevolenza tutta la storia umana tutti gli uomini e le donne di questa terra e a tutti suggerisca come sussurrando all'orecchio tu che sei benedetto da Dio sii benedizione per quelli che ti incontrano vi ricordo che dopo questo telegiornale il meteo verrà trasmessa la striscia quotidiana alla chiesa nella città oggi a cura di Anna Maria Braccini questa sera il bilancio nell'intervista a Monsignor Delpini del suo recente viaggio in Camerun dopo non perdete anche lo sport ovviamente con Luciano Rindone e i suoi ospiti ampio spazio anche al mercato con le ultime news da Fabio Santini che verranno commentate qui in onda ovviamente dopo il telegiornale sportivo e poi come detto prima alle 21 la prima serata di politica che si aprirà appunto con l'intervista di Adriana Santacroce a Letizia Moratti con la possibilità per voi di contribuire ponendo le vostre domande e poi fino alle 23 il commento politico con gli ospiti in studio non perdete quindi questa serata sugli schermi di Telenova grazie a tutti